Una Toscana in cammino ed in evoluzione che vuole cogliere al meglio le opportunità che derivano dalla quarta rivoluzione industriale, quella legata al digitale. Una rivoluzione che sta cambiando radicalmente il nostro modo di vivere. Una trasformazione che sta accogliendo anche la pubblica amministrazione, tanto che la regione ha messo in piedi proprio per accelerare i processi legati allo sviluppo dell'agenda digitale toscana un tour in dieci tappe promosso da CISPEL, ANCE e Fondazione Sistema Toscana, al quale partecipano istituzioni, comunicatori, associazioni e innovatori. Il nome non poteva essere altrimenti è Toscana Digitale e la prima tappa con quattro tavoli operativi di lavoro si è tenuta al polo tecnologico di Lucca. Il format è molto semplice ma anche molto operativo, con quattro tavoli di lavoro, quattro focus su delle tematiche che si toccano e che sono fondamentali per dare poi servizi ai cittadini, infrastrutture e piattaforme digitali, Open Toscana che è la casa dei servizi digitali della Toscana, Smart City e nuova comunicazione pubblica. La partenza di Toscana Digitale a Lucca è stata anche l'occasione per fare il punto sulla diffusione della banda ultralarga e dei collegamenti veloci ad internet e per presentare alcune buone pratiche locali. Tra queste c'è quella del comune di Capannori che è entrato nelle case dei cittadini per spiegare loro cosa si può fare con un telefonino a partire dai servizi online. Nel concreto, nel comune toscano si può ad esempio segnalare una buca per strada via mail o segnalare i rifiuti abbandonati tramite WhatsApp. A Seravezza è stato invece ideato un sistema online per gestire in modo informatico i guasti, un modo anche in questo caso per ridurre i tempi ed accorciare le distanze ai progetti pilota e buone pratiche che dunque possono essere messe a disposizione di tutti per essere condivise e replicabili. Perché oggi sì, bisogna ragionare nel contesto di una collaborazione, non possiamo essere isole, non possiamo essere isole staccate, monadi staccate, dobbiamo essere nell'ambito di una rete che sa collaborare insieme. È la Toscana da questo punto di vista che deve essere il punto di riferimento. La regione in questo senso è per noi un momento centrale per il coordinamento con il resto. C'è poi l'altra tematica importante della comunicazione e in particolare la comunicazione pubblica che deve essere sempre più evidente. Ovvio che per parlare di servizi digitali occorrono le infrastrutture. Da due settimane è partita il cantiere della Bandra Ultralarga per portare entro il 2020 la fibra ottica nelle aree bianche dove gli operatori privati non investono perché non ci sono condizioni di mercato. Quattro di questi cantieri riguardano Lucca. Noi abbiamo questa prima fase delle quattro che ci porteranno appunto a concludere questo investimento 250 milioni. 11 comuni li abbiamo già fatti con risorse proprie e qui su Lucca partono i quattro cantieri della fase 1 che sono su Camaiore, Borgamozzano, Castelnuovo e Forte dei Marmi. Li stiamo aprendo un po'. In tutta la Toscana avremo la conferenza di servizi a fine mese in cui avremo tutti i pareri da tutti gli enti e quindi via andare perché insomma ormai l'infrastruttura tecnologica, la banda ultralarga è essenziale non solo per la vita delle imprese ma talvolta anche per i cittadini.